La vita è una cosa orribile e dietro le nostre esigue conoscenze si affacciano sinistri barlumi di verità che la rendono ancora più mostruosa. La scienza, già oggi sconvolgente nelle sue terribili rivelazioni, rappresenterà la fine della razza umana. Ammesso pure che siamo una specie autonoma, quando fornirà alla nostra mente la chiave di orrori insopportabili che un giorno dilageranno nel mondo. Se sapessimo ciò che veramente siamo, dovremmo seguire l'esempio di Arthur Germyn, e Arthur Germyn si cosparse di benzina e si diede fuoco nel cuore della notte. Nessuno ha raccolto le sue ceneri o gli ha eretto un monumento funebre, perché dopo aver trovato certi documenti e aver visto un certo oggetto, gli uomini hanno voluto dimenticarlo. Alcuni, che lo conobbero, non ammettono neppure che egli sia esistito. Arthur Germyn andò da solo nella brughiera e si diede fuoco dopo aver visto l'oggetto arrivato dall'Africa in una cassa. Fu questo, non il suo straordinario aspetto fisico, a portarlo al suicidio. Molti avrebbero preferito non vivere, piuttosto che rassegnarsi a portare la faccia di Arthur Germyn, ma lui era un poeta e uno studioso e non se ne preoccupava. Aveva il sapere nel sangue. Il suo bisnonno, Sir Robert Germyn, era stato un antropologo di fama e il trisavolo, Sir Wade Germyn, era stato tra i primi esploratori del Congo, di cui aveva descritto con erudizione le tribù, gli animali e le presonte antichità. Anzi, il vecchio Sir Wade era animato da uno zelo che arrivava alla mania e, quando erano uscite le sue osservazioni su diverse regioni dell'Africa, si era guadagnato il ridicolo per certe bizzarre congetture su una civiltà preistorica bianca nel Congo. Nel 1765 l'impavido esploratore era stato rinchiuso in manicomio a Hentindon. La follia serpeggiava tra i germin e la gente era felice che non fossero in molti. La famiglia non aveva rami collaterali e Arthur era l'ultimo. Se non fosse stato così, è impossibile prevedere ciò che avrebbe fatto quando arrivò l'oggetto. I germin non avevano un bel aspetto, mancava loro qualcosa. Anche se Arthur era indubbiamente il peggiore e se i ritratti di famiglia mostravano lineamenti irregolari fino ai tempi di Sir Wade, certo la follia era cominciata con lui e le storie fantastiche che raccontava dell'Africa erano la delizia e il errore dei suoi amici. Una vena di pazzia traspariva già dalla sua collezione di trofei ed esemplari africani che non erano del tipo raccomandabile a un uomo sano e arricchivano in modo spettacolare la casa in cui teneva rinchiusa sua moglie, una sorta di prigioniera all'orientale. La signora, aveva detto Sir Wade, era figlia di un mercante portoghese da lui conosciuto in Africa e non amava le abitudini inglesi. Insieme con un figlioletto nato nel continente nero lo aveva accompagnato a casa dopo il secondo e più lungo dei suoi viaggi, quindi lo aveva seguito nella terza ed ultima spedizione da cui non era tornata. Nessuno l'aveva vista da vicino, nemmeno i servi, perché era stata una donna dal carattere violento e singolare. Durante la permanenza a Germin House si era installata in un'ala remota e solo il marito aveva provveduto alle sue necessità. Quanto a Sir Wade era bizzarro in tutto ciò che riguardava la sollecitudine per i suoi cari. Una volta tornato in Africa non aveva permesso a nessuno di occuparsi del bambino, a parte una megera negra che veniva dalla Guinea e dopo essere rimpatriato, Lady Germin era ormai morta, si era assunto completamente la cura del ragazzo. Ma ciò che aveva indotto gli amici a considerarlo pazzo erano stati i suoi discorsi, specialmente quando alzava il gomito. In un'epoca razionale come il secolo XVIII non era opportuno che un uomo colto parlasse di cose misteriose e scene assurde viste alla luce della luna del Congo. Delle gigantesche colonne di una città dimenticata, in sfacelo e coperta dalla vegetazione, dagli umidi, silenziosi gradini di pietra che sprofondavano senza fine in chissà quali caverne e inconcepibili catacombe, nascondiglio forse di perduti tesori. Ma soprattutto non era opportuno che vaneggiasse degli esseri viventi che avrebbero infestato quei luoghi, creature per metà figlie della giungla e per metà della città decrepita, esseri favolosi che anche un Plinio avrebbe descritto con scetticismo e che si sarebbero generate quando la città morente, con le sue colonne, con le catacombe e i fantastici bassorilievi, era crollata sotto l'incalzare delle grandi scimmie. Ma dopo l'ultimo viaggio, Sir Wade aveva parlato di quelle fole con una precisione da mettere i brividi. Specialmente dopo essersi concesso due o tre bicchieri al Night's Head, si era vantato di ciò che aveva trovato nella giungla e del tempo che aveva passato tra orribili rovine note soltanto a lui. Aveva parlato delle misteriose creature in modo tale che lo avevano chiuso in manicomio, ma Huntingdon non era parso dispiaciuto di essere confinato in una cella, la sua mente seguiva schemi tortuosi. Da quando il figlio aveva cominciato a crescere, l'esploratore aveva avuto sempre più avversione per la sua casa e alla fine aveva cominciato a temerla. Il Night's Head era diventato il suo quartier generale e dopo l'internamento Sir Wade aveva espresso una vaga gratitudine per la protezione che così gli veniva offerta. Tre anni dopo era morto. Il figlio di Wade Germain, Philip, era stato un uomo stranissimo. Nonostante la forte rassomiglianza fisica col padre, il suo aspetto e la sua condotta erano così rudi che tutti lo evitavano e sebbene non avesse ereditato la follia paterna, come alcuni temevano, era fondamentalmente un brutto e di tanto in tanto attraversava periodi di violenza incontrollabile. La figura era piccola ma muscolosa, l'agilità delle membra incredibile. Dodici anni dopo aver ereditato il titolo si era sposato con la figlia del suo guardiacaccia, che alcuni ritenevano una zingara, e prima che nascesse un erede si era imbarcato su una nave come semplice marinaio. Questo fatto aveva disgustato i conoscenti più dei suoi modi o del dubbio matrimonio. Verso la fine della guerra americana si era saputo che faceva il marinaio su un mercantile destinato in Africa, perché era fortissimo e molto abile nell'arrampicarsi sugli alberi della giungla, ma era scomparso del tutto una notte che la nave aveva buttato l'ancora al largo della costa congolese. Nel figlio di Sir Philip Germain, l'ormai accettata peculiarità di famiglia aveva preso una piega bizzarra e fatale. Alto, biondo e birile, con una curiosa impronta di grazia orientale che faceva perdonare una certa assimmetria nelle proporzioni, Robert Germain si era dato a un'attività di studioso e investigatore. Era stato il primo a catalogare scientificamente la vasta raccolta di oggetti che il nonno pazzo aveva portato dall'Africa e che aveva fatto la celebrità della famiglia non solo nel campo delle esplorazioni, ma in quello dell'etnologia. Nel 1815 aveva sposato la figlia del settimo visconte di Brightholm e aveva avuto la grazia di tre figli, il primo e l'ultimo dei quali non erano mai stati visti da nessuno a causa di certe menomazioni fisiche e mentali. Intristito da questi drammi familiari, lo scienziato aveva cercato sollievo nel lavoro organizzando due lunghe spedizioni all'interno dell'Africa. Nel 1849 il secondo genito, Neville, persona addirittura ripugnante che pareva combinare l'anima di Philip Germain con l'altezzosa natura dei Brightholm, era fuggito di casa con una volgare ballerina. Ma al suo ritorno, l'anno successivo, il padre lo aveva perdonato. Neville era già vedovo e aveva un figlioletto, Alfred, che sarebbe diventato il padre di Arthur Germain. Gli amici dicono che fu proprio questa serie di dolori a far vacillare la mente di Sir Robert, ma è altrettanto probabile che il disastro fosse scatenato da una curiosa leggenda africana. L'anziano scienziato raccoglieva da tempo le tradizioni delle tribù Ounga, che abitavano nella zona esplorata da suo nonno e da lui stesso, sperando di far luce sui fantastici racconti di Sir Wade a proposito della città perduta e delle sue ibride creature. Una certa concordanza fra i misteriosi documenti raccolti dai suoi antenati faceva pensare, infatti, che l'immaginazione del pazzo fosse stata stimolata da miti locali. Il 19 ottobre 1852 l'esploratore Samuel Seaton si era recato a Germain House con una serie di note raccolte fra gli Ounga e sistemate in un manoscritto. Era convinto che l'etnologo avrebbe apprezzato le leggende su un'antica città di pietra abitata da scimmie bianche e governate da una divinità anch'essa bianca. Durante la conversazione Seaton dovette fornire fin troppi particolari, ma nessuno saprà mai di che cosa si trattasse perché subito dopo il colloquio si verificarono una serie di tragedie. Quando Sir Robert Germain uscì dalla biblioteca, si lasciò alle spalle il cadavere strangolato dell'esploratore e prima che qualcuno riuscisse a fermarlo, assassinò tutti e tre i figli, i due che nessuno aveva mai visto e quello che era fuggito tempo addietro. Neville Germain perì nel riuscito tentativo di difendere il figlioletto di due anni, incluso a quanto pare nei piani omicidi di suo nonno. Quanto a Sir Robert, dopo ripetuti tentativi di suicidio e l'ostinato rifiuto a proferire anche una sola parola, morì di un colpo apoplettico nel secondo anno di internamento. Sir Alfred Germain, dunque, diventò baronetto prima di avere compiuto quattro anni, ma i suoi gusti mal si addicevano al titolo. A vent'anni si unì a un gruppo di ballerini da music hall e a trentasei, abbandonati la moglie e il figlio, si mise al seguito di un circo itinerante americano. La sua fine fu disgustosa. Fra gli animali dello zoo c'era un grosso gorilla maschio di colore più chiaro della media, bestia molto mansueta e popolarissima fra i lavoranti. Alfred Germain ne era letteralmente affascinato e spesso i due si fissavano attraverso le sbarre per lunghe ore. Finalmente Germain chiese e ottenne il permesso di addestrare l'animale, sbalordendo il pubblico e i compagni di lavoro con i suoi straordinari successi. A Chicago, una mattina, Germain e il gorilla stavano provando uno spiritosissimo numero di box quando il secondo sferrò un pugno più violento del previsto che ferì l'allenatore direttamente nella dignità, oltre che nelle costole. Quello che avvenne poi, i lavoratori del più grande spettacolo del mondo non lo ricordano volentieri. Non si aspettavano di sentire l'urlo inumano di Sir Alfred Germain, né di vederlo afferrare il goffo antagonista con entrambe le mani, scaraventarlo sul pavimento della gabbia e azzannargli con furia omicida la gola pelosa. Il gorilla era stato colto di sorpresa, ma il suo svantaggio non durò a lungo. Prima che l'altro domatore potesse far qualcosa, il corpo dell'ex baronetto era diventato irriconoscibile. Arthur Germain era figlio di Sir Alfred e di una cantante di Music Hall dalle origini oscure. Abbandonata dal marito, la donna aveva condotto il bambino a Germain House, dove non era rimasto nessuno a fare obiezioni sulla sua presenza. Non ignorava ciò che occorre alla dignità di un nobile e fece in modo che il figlio ricevesse la miglior educazione che le sue modeste risorse le permettevano di offrirgli. Il patrimonio di famiglia si era spaventosamente assottigliato e Germain House era piombata nello squallore dell'abbandono. Ma il giovane Arthur amava l'edificio e quanto conteneva. Non era come gli altri Germain, perché la sua indola era quella di un sognatore e un poeta. I vicini, che conoscevano i racconti sulla moglie portoghese di Sir Wade, affermavano che il sangue latino di lei evidentemente si mostrava. Ma per lo più la gente irrideva la sensibilità di Arthur e l'attribuiva alla madre artista, che socialmente non aveva alcun peso. La delicatezza poetica di Arthur Germain era tanto più notevole in quanto si accompagnava a un aspetto fisico dei più goffi. La maggior parte dei Germain avevano posseduto allineamenti irregolari e a volte ripugnanti, ma nel caso di Arthur si andava oltre ogni limite. È difficile dire a cosa somigliasse, ma l'angolatura del volto, l'espressione e la lunghezza delle braccia davano un brivido di repulsione a chiunque lo incontrasse per la prima volta. Per fortuna il suo intelletto e il buon carattere compensavano l'aspetto fisico. Colto e dotato, Arthur si laureò a Oxford con i più alti onori e si pose all'altezza della fama intellettuale che circondava la sua famiglia. Sebbene avesse un temperamento poetico più che scientifico, era deciso a continuare le ricerche nel campo dell'etnologia e delle antichità africane e ad utilizzare per questo fine la meravigliosa eccentrica collezione di Sir Wade. La sua immaginazione lo spingeva a fantasticare sulla civiltà preistorica in cui l'esploratore pazzo aveva creduto con tanta convinzione a inventare un'infinità di racconti sulla silenziosa città nella giungla di cui parlavano gli ultimi e più folli appunti di Sir Wade. Le nebulose allusioni a una razza sconosciuta di ibridi della giungla gli procuravano uno strano miscuglio di terrore e attrazione e Arthur faceva teorie sul fondamento di tale mito. Non solo, ma cercava lumi fra i dati che il suo avo e l'esploratore Seaton avevano raccolto tra gli unga. Nel 1911, dopo la morte della madre, Sir Arthur Germain decise di proseguire le sue indagini fino in fondo. Venduta una parte della proprietà per ottenere il denaro necessario, organizzò una spedizione e salpò per il Congo. D'accordo con le autorità belghe ottenne alcune guide e trascorse un anno nelle regioni degli Ung e dei Caliri, raccogliendo una messe di dati quale non si sarebbe mai aspettato. Un vecchio capo Caliri, certo Muanu, possedeva una formidabile memoria, un'intelligenza insolita e un profondo interesse per le vecchie leggende. Il vecchio confermò tutti i racconti che Germain aveva sentito, aggiungendo la propria descrizione della città di pietra e delle scimmie bianche così come era stata tramandata. Secondo Muanu, la città grigia e le creature ibride che la popolavano non esistevano più, perché i bellicosi Mbangu le avevano schiacciate molti anni addietro. Dopo aver distrutto gran parte degli edifici e aver ucciso gli abitanti, i Mbangu si erano impossessati della dea imbalsamata che erano venuti a cercare, la bianca dea scimmia adorata dagli ibridi e che secondo le tradizioni del Congo era il simulacro di colei che aveva regnato come principessa fra quegli esseri. Muanu ignorava quale fosse l'aspetto delle creature bianche e scimmiesche, ma riteneva che fossero i costruttori della città in rovina. Germain non riusciva a fare ipotesi sue, ma interrogando il vecchio ottenne una leggenda molto pittoresca sulla dea imbalsamata. La principessa scimmia, si diceva, aveva sposato un gran dio bianco venuto da Occidente. Per molto tempo avevano regnato insieme sulla città, ma dopo la nascita di un figlio se ne erano andati tutti e tre. In seguito il dio e la principessa erano tornati e alla morte di lei il divino consorte ne aveva mummificato il cadavere e lo aveva collocato in un vasto santuario di pietra dove veniva adorato. Poi lo sposo era ripartito da solo. Esistevano tre varianti della leggenda. Secondo la prima non accadde nient'altro se non che la dea imbalsamata divenne un simbolo di supremazia per la tribù che l'avesse posseduta. Una seconda storia raccontava il ritorno del dio e la sua morte nel santuario ai piedi della moglie. L'ultima variante, infine, voleva che il figlio, diventato uomo o scimmia o dio secondo i casi, tornasse nel paese della madre ma senza essere consapevole della propria identità. L'immaginazione dei negri aveva ricavato il massimo dagli avvenimenti che stavano dietro la leggenda, seppure ce n'erano. Ormai Arthur Germain non aveva dubbi sulla reale esistenza della città descritta dal vecchio Sir Wade e all'inizio del 1912 non fu sorpreso nel trovare finalmente i suoi resti. Probabilmente i racconti ne avevano esagerate le dimensioni, ma le pietre sparse intorno dimostravano che non si era trattato di un semplice villaggio negro. Purtroppo non furono rinvenute sculture e le piccole dimensioni della spedizione impedirono di sgomberare l'unico corridoio che pareva condurre al sistema di sotterranei menzionati da Sir Wade. Germain e i suoi colleghi interrogarono tutti i capi tribù della zona sulle scimmie bianche e la dea imbalsamata, ma toccò a un europeo arricchire le informazioni fornite dal vecchio Muanu. Il signor Ferheren, agente belga di una stazione di posta sul Congo, riteneva di poter non solo localizzare la dea imbalsamata di cui aveva sentito vagamente parlare, ma di riuscire a ottenerla. Infatti i Mbangu, un tempo così fieri, si erano trasformati in obbedienti sudditi di re Alberto e con un po' di persuasione potevano essere indotti a separarsi dalla grottesca reliquia di cui si erano impossessati. Quando Germain partì per l'Inghilterra, quindi, fu con l'entusiasmante prospettiva di ricevere entro pochi mesi un'importantissima testimonianza etnologica, una prova che avrebbe confermato da sola i più fantastici racconti del suo trisavolo e il mito più bizzarro che lui avesse udito. Solo i vicini di Germain House, i cui antenati avevano ascoltato i racconti di Sir Wade in persona, si tramandavano storie più impressionanti. Arthur Germain attese con pazienza la spedizione del signor Ferharan e nel frattempo studiò con diligenza i manoscritti lasciati dal suo folle trisavolo. Cominciava a provare una profonda affezione nei confronti di Sir Wade e a cercare testimonianze della sua vita in Inghilterra e durante le spedizioni africane. I racconti sulla moglie reclusa e misteriosa erano parecchi, ma a Germain House non restava alcuna prova della sua presenza. Germain si chiese il motivo di questa rimozione e pensò che risiedesse nella pazzia dell'antenato. La trisavola, si diceva, era la figlia di un mercante portoghese in Africa. Senza dubbio il suo retaggio pratico e la conoscenza superficiale che aveva del continente nero l'avevano indotta a non prendere sul serio i racconti di Sir Wade, cosa che quel genere d'uomo doveva essersi legata al dito. La donna era morte in Africa, dove con ogni probabilità il marito l'aveva portata per dimostrarle che quello che diceva era vero, ma indulgendo in quelle riflessioni Germain non poteva fare a meno di sorridere della loro inutilità. Dalla morte dei suoi bizzarri antenati era trascorso ben un secolo e mezzo. Nel giugno del 1913 arrivò una lettera del signor Ferharren in cui si annunciava il ritrovamento della dea imbalsamata. Il belga ammetteva che si trattava ad un oggetto straordinario al punto che un non esperto non sapeva assolutamente come definirlo. Solo uno scienziato sarebbe stato in grado di stabilire se il corpo della creatura fosse umano scimmiesco e l'imperfetta conservazione non avrebbe facilitato le indagini. Il passare del tempo e il clima congolese non giovano alle mummie, specialmente quando, come in questo caso, la preparazione è stata fatta da un dilettante. Intorno al collo della creatura si era trovato un ciondolo d'oro con un piccolo scomparto vuoto sul quale era inciso uno stemma araldico. Senza dubbio era appartenuto a uno sfortunato viaggiatore catturato da imbangu che avevano offerto il gioiello alla dea come talismano. Descrivendo la faccia della mummia il signor Ferharren fece qualche sardonico raffronto e si chiese come avrebbe reagito nel vederla il suo corrispondente, ma il problema scientifico era troppo importante per perdersi in battute di spirito. L'oggetto contenuto nella cassa fu recapitato a Germyn House il pomeriggio del 3 agosto 1913 e fu immediatamente condotto nella grande sala che ospitava la collezione di cimeli africani sistemata da Sir Robert e Arthur. Quello che avvenne poi si può ricostruire soltanto dai racconti dei domestici e da alcuni documenti esaminati in seguito. Di tutte le versioni la più ricca e coerente è quella del vecchio Sommis, il maggiordomo di famiglia. Secondo quell'uomo degno di fede, Sir Arthur fece allontanare chiunque prima di aprire la cassa, anche se l'immediato risuonare di martello e scalpello provano che non perse tempo nel dedicarsi al suo compito. Per un po' i rumori cessarono, ma il vecchio Sommis non è in grado di stabilire quanto. È certo, tuttavia, che passò meno di un quarto d'ora prima che riecheggiasse l'orribile urlo di Arthur Germyn. Un istante più tardi il signore schizzò dalla sala e si precipitò verso la parte anteriore della casa, come se avesse alle calcagne un terribile nemico. L'espressione della faccia, già abbastanza sgradevole quando era calmo, era al di là di ogni descrizione. Arrivato davanti alla porta d'ingresso si ricordò di qualcosa, perché cambiò direzione e scomparve giù per le scale che portavano in cantina. I servitori non sapevano assolutamente che cosa pensasse e fissavano la sommità delle scale, ma il padrone non riapparve più. Tutto quello che saliva dalla cantina era un puzzo di petrolio. Dopo il tramonto qualcuno grattò alla porticina che dalle cantine immetteva in cortile e uno stagliere vide Arthur Germyn, cosparso di petrolio e intriso dell'odore di quel fluido, uscire furtivamente e scomparire nella brughiera che circondava la casa. Poi, in un momento di orrore supremo, tutti videro la fine. Una scintilla illuminò la brughiera, la fiamma si alzò e una colonna di fumo umano svettò fino al cielo. La stirpe dei Germyn era estinta. La ragione per cui i resti carbonizzati di Arthur Germyn non vennero raccolti e neppure seppelliti sta nelle scoperte che vennero fatte in seguito, specialmente quelle riguardanti la cosa nella cassa. La dea imbalsamata era una vista nauseante, rinsecchita e in parte smangiata, ma si trattava senza dubbio di una scimmia bianca di specie sconosciuta, meno pelosa delle altre e infinitamente più vicina all'uomo, così vicina, anzi, da incutere terrore. Una descrizione particolareggiata sarebbe nauseante. Ma due cose devono essere rivelate per comprendere appieno i racconti africani di Sir Wade Germyn e le leggende congolesi sul dio bianco e la principessa scimmia. Si tratta di questo. Lo stemma araldico sul ciondolo della creatura era quello dei Germyn e la rassomiglianza a cui aveva fatto cenno, quasi per scherzo, il signor Ferharan si riferiva da una parte alla faccia rinsecchita della dea e dall'altra. Quale orrore, quale innegabile abominio, ai lineamenti del sensibile Arthur Germyn, lontano discendente di Sir Wade e della sua sconosciuta moglie. I membri del reale istituto di antropologia diedero fuoco alla creatura imbalsamata e gettarono il ciondolo d'oro in un pozzo. Per alcuni di loro, Arthur Germyn, non è mai esistito.